eccoci qua che cosa presentiamo oggi presentiamo un nuovo filo di milo qui volevo spendere due parole perché milo ci ha fatto veramente un grande regalo allora è un filo prettamente prettamente da finali e anche naturalmente madre lenza bobine piccole e però milo il primo regalo che ci ha fatto e che di solito le bobine da finali sono da 50 metri questo qui è il nuovo krypton il krp ed è un filo però che viene confezionato in bobine da 110 metri caratteristiche di questo filo altissimi carichi di rottura perché un polimero completamente nuovo quindi diciamo che è una tecnologia all'avanguardia di oggi sui fili il filo si presenta anche se da finali la grande caratteristica è che un filo sia abbastanza rigido allora uno peccherebbe di morbidezza però con questo nuovo polimero ora qui non si riesce a vedere bene questo qui un 12 e 2 è veramente una seta completa rifrazione in acqua che cosa vuol dire vuol dire che avendo una completa rifrazione in acqua vuol dire che si comporta praticamente in una trasparenza totale quindi diciamo che abbiamo un filo completamente trasparente e invisibile in acqua pur essendo un nylon per la composizione di questi polimeri è un filo che resiste all'abrasione è un filo che resiste perfettamente al nodo e a diametri garantiti milo ci ha fatto una gamma di fili con delle misure per me azzeccatissime anche perché questo nuovo polimero nell'estrusione praticamente viene fatto il diametro controllato come ho detto e vengono praticamente fatte delle misure particolari infatti noi abbiamo di questa misura abbiamo il 7 e 2 poi abbiamo il 9 e 100 il 10 e 2 il 12 e 2 il 14 e 9 fino ad arrivare alla misura del 19 e 7 il 15 17 e il 19 e che cosa dire di questo filo noi l'abbiamo provato l'abbiamo provato anche il 12 e 2 in fiume altevere su debarbi importanti sono stati salpati pesci anche sopra i due chili senza avere nessun problema addirittura quello che mi è capitato vi dico l'esperienza mia con un 12 molte volte quando prendi il fondo diciamo lo rompi il finale beh qui con un amo diciamo robusto si apre l'amo quindi è veramente un filo da provare veramente milo ci ha fatto un grande regalo ha trovato questo filo e come dico come ho detto prima con un'estrusione nuova con dei polimeri nuovi quindi è il k rp è veramente un filo da provare